Lei è la regina delle città, ovviamente l'avrete riconosciuta e sto parlando di Londra. Io ho vissuto qui per oltre sei anni della mia vita ed è stata un'esperienza meravigliosa. Ma questa è un'altra storia. Oggi ti voglio raccontare invece cinque curiosità su Londra che sono sicura non conoscevi. Numero uno, il Tower Bridge, questo ponte meraviglioso, ha una passerella sopraelevata per i pedoni. Infatti la parte centrale si alza per permettere il passaggio delle imbarcazioni. Proprio per questo motivo era stata pensata una passerella sopraelevata. Purtroppo però nel 1910 venne chiuso in quanto si era trasformato in un luogo di delinquenti e prostitute. Numero due, il Tamigi non è l'unico fiume di Londra. Infatti ci sono almeno altri 20 corsi d'acqua che scorrono in giro per la città. Uno di questi è il Tiburon che scorre proprio sotto Buckingham Palace. 3. Londra è la città delle prime volte. È apparso infatti il primo ombrello moderno utilizzato per la prima volta nel 1750. Il primo sexy shop, il primo semaforo e anche il primo cappello a cilindro. La torre dell'orologio non si chiama Big Ben. La struttura infatti alta 96 metri è stata costruita nell'Ottocento. E il suo nome ufficiale, indovinate qual è? Elizabeth Tower. Quinta ed ultima curiosità, la metropolitana di Londra è la più antica al mondo. Inaugurata nel 1863, conta ben 382 stazioni e ben 402 chilometri di binari. Inoltre più della metà delle sue linee sono sopraelevate. E pensate che dall'apertura al suo interno sono nati ben tre bambini. Uno nel 1924, uno nel 2008 e uno nel 2009. Raccontaci altre curiosità su Londra che ti hanno appassionato.